abbiamo parlato di inflazione qualche tempo fa vi avevo anche citato un report xtb al riguardo del quale vi lascio nuovamente il link in descrizione ma quando si parla di crisi di inflazione ci sono aziende che in generale performano meglio o meno peggio di altre perché hanno prodotti o servizi particolari o per il marchio che si portano dietro oggi ho preso due di queste aziende pepsi e coca cola e cerchiamo di capire quale o in quale delle due sia meglio investire in questo periodo ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio come sempre sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto nonché educatore finanziario if autore del libro da meno 35.000 a 0 in 18 mesi libro del quale trovi qui sotto il link nel caso tu lo volessi acquistare dove racconto la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad investitore e risparmiatore incallito bene coca cola e pepsi sono tra i marchi di maggior valore al mondo nella prova che fanno parte di una classifica di forbes dei marchi più preziosi al mondo in cui coca cola è al stesso posto e pepsi co al trentaseesimo entrambe le società hanno una rete di distribuzione molto ampia la rete di distribuzione dell'azienda in combinazione con la forte immagine del marchio che hanno rende difficile per i concorrenti entrare nei loro segmenti di business in maniera importante i forti marchi di coca cola e pepsi co confediscono alle aziende il potere di determinazione dei prezzi per poter aumentare i loro pezzi a causa dell'aumento dei costi cosa che in un periodo inflattivo giova le classi aziendali ed è anche un forte vantaggio competitivo che entrambe le aziende hanno in questi tempi di alta inflazione magari rispetto a altri concorrenti che hanno una forza inferiore in termini di valore del marchio un altro aspetto fondamentale sono il gran numero di marchi importanti dei propri portafogli di prodotto questi vanno ad evidenziare altri punti di forza di entrambe le società per esempio pepsi co ha 23 marchi nel suo portafoglio di prodotti ciascuno dei quali genera oltre un miliardo di dollari di entrate il portafoglio di prodotti di coca cola company comprende più di 200 marchi bibite acque caffè tè succhi fra gli altri una caratteristica importante che contraddistingue entrambe le società è il fatto che pepsi co a differenza di coca cola non opera solo nel settore delle bevande ma anche del settore degli snack e degli alimenti il che conferisce all'azienda pepsi co maggiore flessibilità nello sviluppo di nuovi prodotti e l'acquisizione di nuovi marchi nonché maggiori opportunità di crescita futura prendiamo ad esempio visto che i uomini dividendi una comparazione fra i due dividendi delle due aziende tanto per cominciare entrambe dividen king coca cola è stata in grado di aumentare il proprio dividendo del 3,62 per cento in media all'anno negli ultimi cinque anni il payout ratio della società è attualmente del 70 per cento circa dimostrazione del potenziale dei futuri miglioramenti dei dividendi coca cola potrebbe tranquillamente aumentare il proprio dividendo anche del 3 per cento all'anno in media negli anni a venire a mio parere in questo caso supponendo appunto che la società continuerà ad aumentare il proprio dividendo di circa del 3 per cento all'anno per i prossimi 30 anni vedremo che dopo 20 anni circa avremo ricevuto il 77,34 per cento di investimento iniziale sotto forma di dividendi se passiamo per psico il suo tasso di crescita negli ultimi cinque anni è stato di media del 7 e 39 per cento però assumendo un tasso di crescita più prudente rispetto a questo valore si potrebbe presumere ipotizzare che un 4 per cento anno circa dei prossimi nei prossimi 30 anni sia una media piuttosto accettabile con queste stime dopo 20 anni avremmo ricevuto l'85 per cento e mezzo circa dell'investimento iniziale sotto forma di dividendi secondo queste stime dopo 30 anni rendimento del dividendo di pepsico sarebbe dell'8 e 68 per cento appunto stimando il 4 per cento come tasso di crescita del dividendo di pepsico e il dividendo accumulato sarebbe di circa il 158,8 per cento rispetto a pepsico il dividendo di coca cola company sarebbe del 6 55 per cento appunto stimando un tasso di crescita come abbiamo detto prima del dividendo del 3 per cento per coca cola e il dividendo accumulato sarebbe del circa 135 per cento scarso sia coca cola company che pepsico hanno entrambe lottato con una crescita più lenta nel 2020 molto probabilmente perché molti ristoranti hanno chiuso durante la pandemia tuttavia pepsico ha contrastato questi 20 contrari in modo più efficace rispetto alla di coca cola company vendendo più alimenti confezionati queste difficoltà indotte dalla pandemia sono andate a diminuire lo scorso anno ed entrambe le società hanno generato ancora una volta una crescita organica accelerata dei ricavi coca cola e pepsico si aspettano entrambe che questo slancio continui anche quest'anno anche dopo aver tenuto conto delle recenti sospensioni delle loro operazioni in russia coca cola prevede che le sue entrate organiche aumentino fra il 12 e il 13 per cento per l'intero anno mentre pepsico prevede che le sue entrate organiche aumenteranno del 10 per cento circa entrambe le società sono saldamente redditizie ma la crescita degli utili di pepsico è rimasta più stabile rispetto a quelle di coca cola company durante la pandemia per il 2022 coca cola prevede che il suo utile per azione crescerà del 14 15 per cento sul base valutare costante o aumenterà di circa 5 6 per cento dopo aver tenuto conto del fatto che il dollaro si sta rafforzando pepsico invece prevede che il suo eps core aumenterà dell'otto per cento in termini di valuta costante o del 6 per cento dopo aver tenuto conto dei venti contrari della valuta entrambe le aziende affrontano appunto delle problematiche inflazionistiche ma entrambe stanno frenando le loro spese e alzando i prezzi per contrastare questa pressione una strategia classica che non è infallibile ma ha funzionato bene durante i precedenti cicli inflazionistici è probabile che anche i consumatori continueranno ad acquistare i loro prodotti indipendentemente dalla situazione macroeconomica che non è rosa o dalla minaccia di una potenziale recessione in ogni caso le vendite di bibite gassate sono diminuiti nel corso degli anni con un impatto negativo sulle aziende o riducendo appunto i propri margini alla ricerca di una soluzione ad esempio coca cola ha affrontato questo problema investendo in alternative diverse a quelle che può essere le bibite gassate come caffè acqua frizzante o bevande sportive questo gigante delle bevande ha ampliato il proprio portafoglio per includere oltre 4.700 prodotti nel settore delle bevande e più di 500 marchi la prima linea è aumentata del 17 per cento dal 2020 al 2021 e nel complesso ricavi sono aumentati quasi il 13 per cento dal 2018 la sua fonte di reddito più significativa proviene dalle operazioni in nord america un segmento che ha visto i suoi ricavi netti aumentare del 15 per cento dal 2020 al 2021 inoltre anche ricavi netti della sua linea di attività di imbottigliamento hanno registrato un buon incremento con un aumento del 14 per cento nello stesso arco di tempo gli investimenti di coca cola in prodotti di più diversificati stanno infatti iniziando a dare i propri frutti pepsico ha anche beneficiato degli investimenti all'interno dei suoi marchi di catene di appropriamento di capacità di produzione e capacità digitali che hanno consentito alle sue azioni di superare il settore nell'ultimo anno ha subito delle pressioni sui margini del quarto trimestre del 2021 a causa appunto dell'impatto delle introduzioni della catena di approvvigionamento dal 2020 al 2021 la linea superiore si è ampliata di un sostanziale 13 per cento nel complesso dal 2018 è salita di circa 23 per cento due fonti di reddito vitali derivanti dall'operazione in nord america fritto lei pepsico beverage hanno registrato aumenti dell'otto e del 12 per cento su base anno dal 2020 al 2021 la particolarità di pepsico è che il suo portafoglio di prodotti di snack come citos doritos e lace forniscono una solita miscela di diversità che può compensare le perdite all'interno dei suoi segmenti di bevande per entrambe le aziende la diversificazione dei prodotti è fondamentale le vendite di bibite gassate sono in calo con i consumatori che si spostano verso delle bevande più sane coca cola si è recentemente concentrata su questo aspetto con investimenti come la recente acquisizione di body armor e pepsico lo copre al suo interno con il marchio gatorade quali sono i rischi più importanti di queste due aziende uno dei principali fattori di rischio sia per coca cola company che pepsico sarebbe la loro immagine danneggiata del marchio in questo caso le loro attività e i risultati finanziari potrebbero risentirne in maniera molto ma molto significativa ci sono poi alcuni competitors come monsters o red bull oppure grossi marchi alimentari come viene in mente ad esempio nestle che potrebbero grazie alla loro potenza e forza economica così chiare delle fette di mercato la competizione potrebbe comportare un calo dei margini di profitto sia per coca cola company che pepsico ma anche questo secondo me dipende da come e se il marchio mantiene la sua immagine per cui se questa immagine possa essere scalfita o meno oppure il dividendo potrebbe essere tagliato in futuro ad esempio a causa di una crescita stagnante per alcuni anni non possiamo sapere cosa ci spetta nel futuro tuttavia dal momento che coca cola attualmente un payout del 70 per cento abbondante e pepsico ha un payout più o meno del 67 per cento abbondante non lo vedo come una minaccia nel futuro prossimo poiché c'è ancora molto spazio di margine di miglioramento di entrambe le società sui dividendi e comunque di possibilità di non ridurlo per entrambe le società non vedo rischi o preferenze particolari per un investitore anche se io ho preferito da sempre pepsico e infatti ho azioni del mio portafoglio di pepsico mentre non ne ho di coca cola perché a differenza appunto di coca cola pepsico ha un portafoglio di prodotti più ampi operanti non solo nel settore delle bevande come va coca cola questo lo considero un punto di forza non indifferente bene se questo video è stato di tuo gradimento ti chiedo per cortesia di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su e per farmi crescere sulla piattaforma a te come sempre costa poco meno di un millisecondo ma per me significa il mondo se poi sei nuovo sul canale ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente bene anche per oggi è tutto non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un prossimo video a presto ciao